Al Bambin Gesù, ospedale pediatrico di eccellenza assoluta nel mondo e che ha, come dire, messo un ulteriore tassello sulla sua fama meritata, un'operazione veramente avveniristica di salvataggio di un bimbo di 5 anni a cui è stato impiantato, lo vedete, questo bronco di plastica che sarà poi riassorbito, quindi in qualche modo biodegradabile, mettiamolo così, dall'organismo e che è stato realizzato in 3D. Chi conosce la procedura sa di un macchinario che realizza su progetti che vengono inseriti, su parametri di progetti realizza l'oggetto, questo è l'oggetto, tutto nato nell'elaborazione tecnologica e scientifica del Bambin Gesù e il Bambino di 5 anni è stato operato e la notizia è stata data un mese dopo, è stato già dimesso, qui vedete proprio il bronco che verrà poi assimilato ed espulso praticamente dallo stesso polmone. Complimenti ai ricercatori del Bambin Gesù.